si può arrivare il corso là oh ragazzuolo firma firma vai dentro vai dentro solo l'inizio è quello infatti sto pensando per le arche passa qua passa qua un cazzo passa qua grazie Paolo arrivo a prenderli miei vado a pulire le quattro trasche qua che per me ci passano di qua e ma là da dove vieni su dal canale adesso vado a prenderli qui la zio seve vai indietro vai indietro vai indietro parti sulla terra parti sulla terra vieni qua dove sono io vai così eh qua vieni qua dove sono la magia deciso eh non c'è che fai figa plastica questo va adesso eh color'u otherwise qua 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 Grazie a tutti.